ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora intanto buon anno a tutti il primo video dell'anno nuovo ed è un video che abbiamo progettato io e il marchese bianconero nell'anno vecchio infatti lo saluto e lo ringrazio perché è un video comunque che abbiamo deciso di fare in collaborazione e riguarda l'ultimo decennio so benissimo di non essere stato tanto presente sul canale in questo periodo di festività ma appunto mi sono voluto godere le feste anche perché youtube ripeto non è il mio lavoro quindi tra lavoro una cosa e quell'altra ogni tanto bisogna prendersi del tempo per se stesso anche perché ho approfittato del fatto che primavera under 23 donne prima squadra tutte sono state ferme per il nuovo anno quindi mi sono preso qualche giorno dove ho buttato dentro qualche video ma niente di niente di cosa posso dire così importante così diciamo numeroso ma riprenderò chiaramente con la programmazione del canale solita anche nei prossimi ovviamente nei prossimi giorni riprenderà la programmazione solita ecco perché è giusto così allora il video è molto semplice in realtà come questione abbiamo deciso eravamo qua io il marchese quando avete se non avete visto il suo vlog andatelo a vedere nel canale se avete visto il mio precedente video sapete che ho fatto che era qua con me abbiamo deciso di scegliere le 10 partite del decennio della juve cioè insomma le partite più importanti della juve in questo decennio e quelle più significative no e l'abbiamo presa in ordine di annata infatti siamo partiti dal 2011 2012 fino arrivare alla 19-20 cioè quella di quest'anno e io inizierei subito con questa classifica e al come prima partita sono in ordine cronologico quindi partiamo dal 2012 e arriviamo fino al 2020 quindi andiamo avanti ovviamente con in ordine cronologico prima partita che abbiamo scelto juve parma 4 a 1 allora intanto quella una delle parti più importanti perché l'esordio allo juventus stadium l'esordio allo juventus stadium è stato come una nuova pagina di un libro meraviglioso che poi abbiamo aperto per otto anni abbiamo letto per otto anni speriamo di poterlo leggere e andare avanti anche nel prossimo decennio però la svolta del decennio è stata la costruzione dello stadium che nei primi anni diciamo difficili è stato comunque un valore aggiunto non solo quello chiaramente poi la rosa era molto più competitiva abbiamo preso Pirlo abbiamo preso Vidal poi dopo sono arrivati anche altri Tevez Pogba eccetera eccetera però lo juventus stadium sicuramente ha dato una mano importante a livello anche morale ai giocatori l'entusiasmo che si respirava soprattutto i primi anni allo stadium credo che sia stato veramente importante e come posso dire decisivo decisivo per quanto riguarda per poter ottenere quello che abbiamo ottenuto in questi otto anni la seconda partita cagliari juve 0 2 sempre la stessa stagione lo scudetto il primo il primo di questi otto consecutivi ver vinto quel campionato lì voleva dire tanto io credo che sia stato uno dei più belli che io mi ricordo che io mi possa ricordare io il primo scudetto che mi ricordo era quello del 94 95 quello per intenderci con già c'era Viali che l'anno dopo ci portò alla champions league quindi l'ho visti tutti e io credo che insieme al 5 maggio questo sia la data più bella lo scudetto più bello che io mi ricordo insieme io credo che se dovesse fare una top 3 poi c'è dentro un altro in questa top 3 cioè due di queste top 3 sono successi in questi otto anni quindi questo è un altro diciamo che questo l'altro che poi andrò a cerchi dopo e il 5 maggio sono stati secondo me i tre scudetti più goduriosi da tifoso da vedere insomma e questo voleva dire troppo voleva dire tantissimo la rinascita la riconferma l'aver l'essere tornati quando sembrava che quando non so come dire ma è come se hanno hanno provato ad affondarci ma siamo rimasti a galla e siamo tornati su e questo questo è stato uno scudetto della pesantezza enorme soprattutto a livello morale perché era come un liberarci da periodi difficili soprattutto periodi difficili non nati da noi mettiamola così perché non sono stati periodi difficili perché abbiamo sbagliato il mercato perché quello succede tutti i cicli finiscono quindi c'è c'è bisogno di tempo ma lì erano difficili per altri motivi quindi sicuramente è stata una liberazione terza partita la partita col celsi 2 a 2 e 3 a 0 allora qua abbiamo scelto questa partita per simboleggiare il ritorno in champions in realtà non è stato quello il ritorno al champions dopo due anni di settimi posti ma abbiamo scelto questa perché il ritorno di affrontare una big in champions dopo due settimi posti quindi aver battuto i campioni d'europa 3 a 0 senza fargli vedere palla al ritorno è stato sicuramente veramente importante da segnalare che all'andata è finita 2 a 2 con quagliarella che prende un pallo al 92esimo se no al momento vincevi anche a stanford bridge è stata credo in due partite abbiamo fatto vedere benissimo cosa voleva dire quella juve e lì forse abbiamo cominciato a capire che questa squadra aveva un potenziale che forse fino all'anno prima non credevamo di avere ecco quindi sicuramente una bella due belle serate soprattutto il 3 a 0 che ci consentì di passare il turno è stata veramente una gran goduria mettiamola così quarta partita il ritorno in finale allora la scelta 1 a 1 con real madrid a bernabéu quella partita lì è stata la consapevolezza anche lì che questa squadra era forte abbiamo affrontato un real madrid che aveva vinto la champions l'anno prima e l'anno dopo iniziò la sua era con tre altre tre coppie campioni insomma il real madrid in cinque anni ha centrato quattro finali l'unica volta che il real non ha centrato la finale è stata questa quest'anno qua e magari poi quella finale lì la perse magari l'avrebbe persa perché quel barcellona lì era fenomenale però sinceramente io credo che quella finale di quella quel raggiungimento di quella finale in quel momento lì è stata una delle partite più belle che mi ricordi a livello di sensazioni perché veramente lì capimmo che questa squadra era veramente forte in un anno dove non avremmo probabilmente pagato un euro sulla scommessa su una scommessa di una juve così in alto perché parliamoci chiaro il cambio Conte a Lega aveva spiazzato molti ed eravamo anche un po' scettici il cambio di Allegri Conte probabilmente invece è stato decisivo per poter ottenere una dimensione più europea che poi siamo andati avanti a portare avanti negli anni e continuiamo a portare avanti quindi sicuramente è stata veramente una soddisfazione immensa una partita che mi ricordo come se fosse ieri potevamo anche vincerla con Marchisio che si è mangiato un gol a tempo quasi scaduto ma va bene così insomma è stata veramente una finale meravigliosa da raggiungere e la quinta partita è stata proprio la finale contro il Barcellona abbiamo perso abbiamo perso quella finale ma il giocare una finale di Champions dopo anni cioè dal 2002 2003 è stata una fase fondamentale della crescita di questa squadra in particolar modo poi quella finale lì la giocammo bene la rabbia monta anche per quello la giocammo bene non la giocammo a darmi pari forse di più il Barcellona aveva un attacco più forte perché poteva contare sul miglior Neymar della storia finora Messi in forma straordinaria e Suarez che quell'anno li buttava dentro qualunque pallone capitasse nella sua area oltre che quel Barcellona lì non lo scordiamo lo aveva un centrocampo formato da Iniesta e Xavi quindi e Busquets che legnava per fare in modo che quei due li giocassero a pallone nonostante tutto quella partita se non fu sfortunata perché dopo che avevamo trovato il pareggio sembrava una partita che potevamo portarla a casa se credo ci avesse trovato quel rigore che era sacrosanto con l'espulsione di Dani Alves francamente io credo che quella coppa lì la Juve la poteva portare a casa e quindi e quindi 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 va bene così e andiamo dunque invece alla sesta partita Juve Fiorentina 2 a 1 e quella partita all'inizio ha fatto in come posso dire è stato l'inizio di una scalata che ci portò al sesto scudetto consecutivo quel sesto scudetto consecutivo che ci fa ci fece entrare ci ha fatto entrare nella storia perché nessuna squadra aveva mai vinto sei scudetti consecutivi si erano fermate tre squadre a cinque una grazie ai tavolino al tavolino e a Guido Rossi l'altra fermata da cinque purtroppo per un disastro aereo ma io vorrei ricordare che tra i cinque scudetti del grande Torino c'era comunque dentro uno scudetto dei vigili del fuoco della Spezia che comunque non è stato considerato scudetto a tutti gli effetti ma in realtà ci fu un altro scudetto in mezzo quindi in realtà già cinque scudetti era un record ma sei sicuramente non aveva mai fatto nessuno è proprio la Juve del quinquennio questo sesto scudetto consecutivo è stato una gioia ma la Juve quell'anno lì fece secondo me un mercato stellare prese alcuni giocatori tra i più forti in circolazione ci ricordiamo Iguain perché fu soffiato a Napoli e quindi fu sicuramente una sorpresa però non dimentichiamoci che abbiamo preso Pjanic, Dani Alves, Piazza, Quadrado che era tornato perché Quadrado era andato al Chelsea perché era finito il prestito ma lui ha insistito per tornare a Torino insomma fu un mercato stellare quella Juve lì fece secondo me un gran mercato quell'anno lì e infatti siamo arrivati a vincere il sesto scudetto consecutivo oltre a quello abbiamo raggiunto la finale di Cardiff Cardiff fu una finale brutta che era la settima partita alla finale di Cardiff Cardiff fu una partita brutta ho messo la partita comunque con la Real Madrid anche perché erano d'accordo sia io che il Marchese la conferma della Juve in Champions di una dimensione europea comunque di grandi risultati anche se l'abbiamo persa però la conferma di avere una squadra di livello assoluto non era facile da Berlino a Cardiff la squadra fu veramente smantellata e ricostruita quindi c'era stata una ricostruzione che comunque ti ha portato alla finale di Cardiff la finale di Cardiff credo che sia incommentabile abbiamo fatto un primo tempo meraviglioso secondo me abbiamo tenuto testa a Real Madrid abbiamo lottato palla su palla nel secondo tempo Real Madrid probabilmente aveva più freschezza atletica non lo so però oggettivamente ci surclassarono nel secondo tempo e Cristiano Ronaldo fece la differenza assolutamente adesso veniamo all'ottava partita Inter Juve 2 a 3 stagione 2017-2018 ecco credo che quello sia stato il weekend più godurioso da tifoso della storia nel senso che io non mi ricordo di aver goduto così tanto per un weekend calcistico perché 5 maggio è stato un godimento allucinante ma 5 maggio era una partita secca cioè tutte e due le squadre anzi tutte e tre considerando la Roma abbiamo giocato nello stesso orario qui due squadre abbiamo giocato in due orari diversi Inter Juve si è giocato sabato sera Fiorentina-Napoli la domenica noi aver vinto quella partita lì che si era messa male in tutti i punti di vista è stata un'impresa meravigliosa che ancora adesso se ripenso a quella partita ai brividi è stata una partita stupenda sicuramente se la ricorderanno anche Colpo Gobbo e VB Channel che sono venuti a trovarmi post partita perché loro erano a San Siro credo che sia stato ripeto il weekend perfetto con Napoli che il giorno dopo perdeva tra l'altro pensate che io avevo una gara il giorno dopo e Fiorentina-Napoli la seguì via cellulare quindi non riuscì a vedere la partita quindi dopo aver perso tra l'altro malamente la settimana prima con il gol di Coulibaly lo scontro diretto e sembrava veramente che dovessimo capitolare in un modo o nell'altro questa partita con l'Inter è stata una goduria veramente immensa che soprattutto con la storia della partita dopo tra Fiorentina-Napoli ci ha oggettivamente consegnato di fatto lo scudetto nona partita penultima Juve Atletico 3-0 stagione 2018-19 l'anno scorso Ronaldo che fa la tripletta e ci porta ai quarti di finale a prescindere di come è andata il quarto di finale quella partita forse è stata la migliore finora di Ronaldo con la Juve come continuità ha fatto 90 minuti di livello mostruoso ma la Juve fu perfetta annientare così l'Atletico Madrid credo che sia stata una cosa meravigliosa e il Real Madrid è sempre una squadra tra l'altro rognosa era la peggio squadra che potevamo incontrare in quel momento lì quella partita è stata fantastica, fenomenale non ci sono altri aggettivi ci ha dato veramente purtroppo l'idea che potevamo giocarcela fino in fondo in Champions secondo me sono stati molto penalizzati dagli infortuni l'anno scorso per il tipo di gioco che proponevamo gli infortuni di Chiellini e Mandzukic purtroppo ci hanno penalizzato troppo con l'Ajax dico peccato perché sono convinto che con le inglesi noi non solo ce la potevamo giocare ma in finale ci arrivavamo poi le finali noi e noi siamo una storia veramente di due binari paralleli però oggettivamente io sono convinto che con gli inglesi col tipo di gioco che proponevamo l'anno scorso fatto spesso di attesa e ripartenza il Liverpool secondo me noi lo potevamo battere tranquillamente perché con i giocatori ovviamente effettivi però detto questo questa partita sicuramente entra di diritto nelle prime dieci decima ultima partita quest'anno Inter Juve 1-2 abbiamo cambiato allenatore abbiamo cambiato tutto è una squadra nuova eppure nello scontro diretto Inter Juve secondo me noi abbiamo fatto la miglior partita dell'anno abbiamo fatto vedere all'Inter la nostra superiorità non è detto che questa partita ci consegnerà lo scudetto anzi molto probabilmente saranno altre le partite più decisive ma entra di diritto perché la nuova era che si è appena aperta col nuovo decennio quindi aveva bisogno di un collante questo collante è stato appunto Inter Juve 1-2 col gol tra l'altro decisivo come due anni prima sempre di Gonzalo Iguay ragazzi spero che vi sia piaciuto questo video è un po' lungo me ne rendo conto però spero che vi sia piaciuto spolliciate se vi piace ovviamente iscrivetevi al canale e andatevi a fare un giro anche sul canale del Marchese Bianconero mi raccomando iscrivetevi anche là perché ovviamente sapete come la penso sul Marchese è sempre molto competente e preciso su ogni argomento che tratta ragazzi io vi auguro ancora un buon anno tornerò in prossimi giorni col prossimi video ovviamente fino alla fine forza la Juve anche per il prossimo decennio e anche più avanti ragazzi ciao a tutti